Qui si fa la pace, qui si fanno incontrare le persone, è una bellissima cosa per l'Italia, per la Toscana, per la provincia di Arezzo. Enrico Letta apre i percorsi di alta formazione a Rondine, una giornata che è stata anche un'occasione di confronto sul tema della leadership che guarda principalmente ai giovani e alla loro formazione come futura classe dirigente. Credo che sia veramente un luogo da raccontare, un luogo da valorizzare e oltretutto un luogo che parla di giovani ai giovani, quindi è un bellissimo segno soprattutto in un giorno in cui i giovani sono protagonisti sul grande tema del clima, quindi mi sembra che siamo in grande sintonia con loro. E poi arriva anche la bella notizia, 150 mila euro per la costruzione di un futuro di pace. Lavorare con i più giovani è un modo per avere più energia, per essere più freschi e per avere lo sguardo sul futuro che è la cosa essenziale. Qui si ragiona su un futuro diverso, un futuro migliore, un futuro di pace, un futuro di relazioni basato sull'incontro tra le persone, questo mi sembra la cosa essenziale, il bello di Rondine è proprio questo. Capire le ragioni degli altri, capire soprattutto che insieme si trovano le soluzioni e da soli non si va da nessuna parte.